Il clima da un lato era testante perché comunque Expo anche oggi era pieno di gente, anche se da un certo punto di vista si respirava un pochino questa chiusura che chiude un capitolo che è stato straordinario, credo, per Piacenza e per tutto il mondo. Piacenza Piacenza oggi ha visto tanti visitatori, tanti piacentini che sono passati e si sono trovati a casa anche oggi e anche tante persone che si sono interessate alla nostra provincia, non abbiamo per scelta fatto niente di particolare perché abbiamo chiuso con la conferenza stampa delle istituzioni di giovedì dove tanti piacentini sono venuti e hanno, come dire, francito questo successo e questo impegno che Piacenza ha messo, questo orgoglio Piacenza che può celebrarsi come Orgoglio Italia. Grazie a tutti.